Massimo, qui siamo presentati in un ritiro ma anche una novità importante, c'è un nuovo allenatore per la primavera del Verona. Sì, diciamo che abbiamo deciso di proseguire l'ottimo, la buona stagione che comunque ha fatto l'Under 17 l'anno scorso raggiungendo comunque anche un obiettivo storico e per questo abbiamo promosso Mr. Corrent alla guida della primavera. E cosa vi ha così convinto nel cambiare, cioè anche in riferimento a Porta per quanto riguarda la guida? Il discorso di proseguire su questo gruppo, è un gruppo che Mr. Corrent ci ha lavorato bene, è un gruppo comunque di ragazzi che verrà poi completato con dei ragazzi 2000, con dei ragazzi 2001 ma soprattutto proseguire questo lavoro cominciato con Mr. Corrent e continuarlo anche in primavera. Poi con il discorso Mr. Porta rimango sempre dell'idea che comunque lui è una persona competente, una persona che comunque è un istruttore. Oggi è difficile trovare persone, è difficile trovare delle persone che comunque si dedicano così sui ragazzi. Secondo me questo è un proseguo di un lavoro e di un cammino con il mister nell'Under 17 insieme agli altri allenatori, Pellegrini nell'Under 16 e Saviolo e Saviolo nell'Under 15. Cercheremo di continuare a lavorare e continuare a fare quello che comunque c'eravamo prefissati che è quello di cercare di crescere questi ragazzi e di vedere più ragazzi o almeno qualche ragazzo in prima squadra che è l'obiettivo nostro ma comunque l'obiettivo del calcio italiano. Siamo stati contenti perché comunque quest'anno sotto questo punto di vista siamo stati contenti e fortunati perché oltre ai vari danzi con Bull e Tupta che comunque l'anno scorso erano praticamente fissi, parlo l'anno scorso, l'anno prima precedente eravamo fissi in primavera e sono stati in pianta stabile, sono stati dei protagonisti importanti per la promozione dell'Ellas, siamo stati contenti perché anche un ragazzo come Traoré è riuscito ad esordire, ragazzi come Chiesa, come Lucas, come Saverius, sono tutti ragazzi che comunque sono stati molto vicini alla prima squadra e devo dire che questo è il lavoro e questo è quello che noi dobbiamo continuare a fare. C'è un giocatore, caro Massimo, mi riferisco a Udoge che insomma quest'anno deve consaccararsi perché l'ha già dimostrato anche con la maglia azzurra, l'ultimo peraltro a vestire la maglia azzurra qui al Bentegodi, quest'estate ha sfiorato l'Europeo, insomma un giocatore su cui Nicola sicuramente ci punterà ma soprattutto l'Ellas Verona ci punterà per il presente ma soprattutto per il futuro. Io devo dire che l'Ellas Verona non sono frasi circostanze perché oggi, adesso sono tanti anni che lavoro in questo mondo, sento e cerco di capire anche quelle che sono le società, le altre società. Il nostro Presidente c'è la possibilità di poter lavorare non soltanto su Udoge ma anche su tanti altri giocatori che noi oggi ci puntiamo e speriamo di che vengano fuori dei giocatori che possano contribuire a dare un aiuto alla prima squadra. Udoge sicuramente in questo momento è quello che è più in risalto perché comunque ha fatto una competizione con l'Italia dove comunque sono arrivati in finale, dove hanno fatto una bella prestazione, dove lui ha fatto un grande torneo consacrato anche con un gol molto bello e sicuramente lui adesso è un ragazzo da stargli dietro e come dico io in questo momento bisogna sempre parlarne meno perché comunque i ragazzi oggi dobbiamo cercare di fargli capire e dobbiamo cercare di non fargli fare gli errori che poi vediamo nei grandi, nei vari ritardi, nelle varie situazioni dobbiamo cercare di aiutarli con la nostra esperienza per quello che comunque in passato sia io e tutti quanti del mio staff abbiamo avuto la fortuna di fare il loro stesso percorso, dobbiamo cercare di insegnarli e soprattutto dobbiamo cercare di educarli e dobbiamo cercare di non fargli fare degli errori che poi possono essere degli errori determinanti e li può rallentare o li possono creare dei problemi nella loro carriera.